buonasera a tutti è scoppiato il caldo e quindi insieme al caldo abbiamo anche la comparsa degli insetti caratteristici di Tiamo di questa stagione estiva vorrei parlarvi delle zecche la zecca praticamente è della famiglia degli acari è un parassita che si attacca e si nutre praticamente del sangue e il menu principale e favorito delle zecche non è altro che il sangue umano o il sangue dei nostri animali in questi giorni sono diverse le persone che sono reduci da camminata passeggiata o picnic domenicale che vengono poi in settimana a riferire che sono stati punti dalle zecche allora la zecca è un insetto abbastanza insidioso quindi dovete fare molta molta attenzione una volta potevamo dire che cappuccetto rosso aveva paura ad attraversare il bosco perché poteva incontrare il lupo adesso dovremmo cambiare un pochino la favola e dire che cappuccetto rosso se attraversa il bosco deve stare molto attento alle zecche allora la zecca come vi ho detto si attacca sulla pelle dell'uomo quindi cercate di non indossare per esempio pantaloncini troppo corti se andate a fare un picnic nell'erba si attacca solitamente nella zona più irrorata e soprattutto dove la pelle è più sottile quindi sotto le ascelle a livello della nuca a livello del dorso o dell'inquine se venite punti dalla zecca dovete cercare di toglierla il prima possibile utilizzate una pinzetta disinfettata la pinzate ruotate e tirate forte in modo da togliere completamente l'insetto il ciclo vitale della zecca dura circa due anni calcolate che conosciute come specie di zecche sono 840 di cui 40 sono presenti tutte in italia per cui dobbiamo essere in allerta e dura circa due anni il ciclo di vita e va da una larva a una ninfa con la trasformazione poi in forma adulta per effettuare questa trasformazione deve mangiare e mangia succhiando il nostro sangue è quello dei nostri animali quindi fate attenzione quando andate a passeggio controllate bene una volta che avete asportato la zecca con la pinzetta controllate bene la ferita e anche la vostra salute perché è portatrice di notevoli infezioni sia batteriche che virali quindi potrebbe essere anche opportuno consultarvi col vostro medico per l'applicazione locale o orale di un antibiotico arrivederci e buona serata